Abbiamo detto che c'è un exequo, quindi l'altra azienda decretata vincitrice a pari merito conta 7 showroom nel Dipartimento delle Alpi Marittime che impiegano circa 50 dipendenti e nel 2023 ha fatturato oltre 20 milioni di euro, di cui 70% derivante dalla ceramica italiana. Il winner è Bob Carlage di Ieres, ritira il premio, Frank Lapointe. Grazie a tutti, Bob Carlage, 15 anni di existenza. Grazie a tutti, siamo una bellissima squadra questa sera, non ho tanto da dire se non grazie. E grazie ancora. Grazie. E grazie ancora. Grazie. 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 Grazie.